guarda se fanno una versione di caccia vediamo qui siamo salvi io dico solo una cosa ribadisco il concetto che come hai detto prima Rex se fanno una modalità se la facevano se l'avessero fatta una versione di Agenosis dentro diciamo i labirinti con i zombie tu dovevi sopravvivere come clone ok raga ricongiungiamoci me ne vedo già qua uno ecco di qua Rex salve a me mi hanno sbottato molto molto lontano seguimi che conosco il posto dove molto lontano noi siamo sotto i villaggetti sospesi si no ma intanto andiamo a prendere i fucili e poi andiamo a recuperare Delta grazie eh si così possiamo almeno venire a recuperare armati nel caso di un po' di caccia e frattempo i teamwork sono diventati 3 ovviamente poi no 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 aspetta direzione sbagliata qua vedo oh aspetta aspetta cosa c'è roba qua abbiamo già abbiamo già svoltato sì vabbè diciamo un po' i troppi no no ma adesso ho capito la direzione Delta sono qui aspetta vedi vedi no noi abbiamo un problema di e-book in zona ok ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ora siamo alla TAT abbatiti se quello vedi ah bravo ecco io sono un mangio ecco Delta meta perfetta Luca abbiamo beccato Delta fermo che pigliano e io ecco qua ok ci siamo io non ho mai un po' tutto quello è l'uomo è quello o qua sono qua venite venite verso cazzo ah no ok su qua è in prima persona ma non so più il giro ok adesso siamo sulla valle del fucile ragazzi ok dicia ah quindi ho faccio sì sentito il bastardo ah no 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 tocca 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 ah no no cos'è a caso ora è un mondo non mi ha venire su trato trato scappa 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 no per un'altra non è un'altra non è un'altra però però c'è un'altra stardo l'avevo detto le pregno no le pregno le pregno ah li vuoi qua se non vedi c'è più la prima il tutto è preso che hai preso Allora andiamo qua dentro Ok raga ne avete uno dietro Visto, l'ho visto, andiamo via Vieni delta, di sotto Vieni via qua Ecco dove ero spottato io Allora qua facciamo Facciamo proprio se non farlo Non ci potrebbero venire anche alle spalle Qua dove c'è il cacciatore battuto Se ci vengono alle spalle Uno urla intanto mettiamoci qua Lì nemmo aggino Vediamo di arginarli qua Così almeno li vediamo Tu provo a tenere la retroguardia allora Di qua da sul basso Ok è buono, tu delta mettiti qua a fianco a me E provo a illuminare No qua ci sono, allora vado dietro Ok, tu qua E tenete quella zona lì Diciamo, tu Luca sei a nord Ok, uno l'ho beccato Elca tu sei a sud e io rimango qua verso est Sento voce Eccolo ho trovato Cazzo, 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 cazzo Lì io sto sparando Ah sì, sì, qua di tre Ah sì, sì, qua di tre Rek, so perché Ok Madonna che cannonato Questa è davvero l'unica zona minimamente difendibile di questo Sì, qua di tre E' un po' di tre Sì, qua di tre E' un po' 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 di tre Eh sì, in realtà se andiamo ancora più in fondo è meglio perché così abbiamo, guarda Ok Abbiamo il limite No, Dalte è morto, è deceduto Si è rimasto solo io in tempo Cazzo Eh sì, tu, te l'avevo bene Se mi senti parlare perché vengo, so, dall'aldilà vengo Esatto Ti faccio compagnia come in, in Among Us, Among Us, quel gioco schifoso E siamo rimasti in tre Noi due e un po' quello Cristo come era Andiamo bene, andiamo proprio bene Andiamo bene Andiamo bene Sì, ma io dove cacchio Dove dobbiamo andare, ragazzi? Guarda Dobbiamo andare a sud, nord, dove, stessi, dove? Madonna, io La nostra maledetta navetta Io non conosco la mia Perché mi seguite a me? Io che ne so dove dobbiamo andare Portali voli strada Esatto, conducili via No, perché Ci hanno spottato in una zona Boh a caso Veramente quasi tutte nella stessa Questa volta è che è tutto a caso Perché non c'è un riferimento No, non c'è Quell'altra è molto meglio Io vorrei sapere che il tizio qua che ha fatto 0 kg Oh, guarda, guarda, aspetta Cazzo Quindi corriamo con la giusta Dobbiamo correre subito, Rex Dobbiamo correre subito, Rex Dobbiamo correre subito, Rex Dobbiamo correre subito, Rex Non so te No, io ho ancora quasi il massimo Dovevi che te ne infuscire stronto quando corri e non vengono a colla E' dietro Ok, buon occhio che qua c'è la trappola, eh Schiviamola, mettiamoci Dobbiamo camminare qua È fiume, sì Sì Oh, 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 oh Via, via, corri, corri, corri Corri, 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 corri Ah, è morto Ah, è morto No, siamo bloccati No, non ce che Oddio Ah Luca, ci sei? Sì, ci sono No, come ti sei perso È finita così È finita così 6 e roma è brutta ragazzi e lo dico con tutto con tutto il lavoro di questo mondo ma come no quando non anna Trivisto a meno non avessi arrivato si è una car zrobi sono ero quasi entrato ma in ma stanno poco a time con il silenzio del risco e non è non è un punto difendibile cioè la collina come borgheville no ma se che ci poteva entrare ma all'ultimo una lancia un attacco in un che mi ha buttato fuori dalla linea di caricamento no ero quasi intanto c'era quasi caricato al massimo mi hanno dato un attacco mi hanno buttato fuori mi sono rimesso la e a quel punto mi ha capito eh sì no erano i 6 che mi attaccavano non ho fatto di vita ma ce la fare a questo giro dai il prossimo no io devo passare giuro vabbè non lo dovevi dire io non lo sapevo neanche lo sai a porco un po' poco come direttamente io ho anche tu io che ci sei il periodo di riuscire che pò fratelli u almeno la mappa pure più bella infatti questa è quella buona ma forse oggi hanno spottato poi dove stanno i il cristo un troppo scopo asci non è un po' di cosa ingiusto no a me me l'ha spottato, sono stato ammazzato subito quindi boh non ci vedo niente ok scambio sono molto male di nuovo luca dove sei in tutto ciò lo so che non lo puoi dire però dove sei però lo puoi dire, lo puoi dire io che ne so di dove siete potete dirlo tranquillamente perché tu guardi già il fucile? ah ho capito chi oh che culo l'ho ammazzato ok ottimo ho reclutato un altro tizio un altro? quanti ne ho ammazzati? oh il 5, 6 no no solo uno per ora e come siamo in 12? cioè quanti ne ho ammazzato nessuno scusciotto ma che palle ma loro già stavano facendo la linea no loro sono tutti nella base ma che pallette questa potevamo giocarcela bene invece è pupa eh ma veramente oh ma io non riesco a credere che quello lì già aveva il fucile ah te le do io le fatine sono veduto delinquente, ribelle tanto guarda un po' lo vedi? io sto in cima ah ah sì però lui doveva capire la mappa bella no? qua che palle da ah ah ciuccia 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 nooo ah paredetto ah l'ha ucciso Grimusa delinquente delinquente quanto quanto sei un criminale 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 uè sei con noi guarda ciao eh esatto vedi dove dobbiamo aprire il gruppo o ci siamo in gruppo? ah andiamo no giustamente no in realtà c'è un modo per salire su che ho appena scoperto eh? sì sì lo so anch'io c'è un albero che ti porta su guarda guarda venite con me voi ma si seguiamo sei dietro di te guarda guarda come ti ho fregato prima sono andato qua e hop si 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 qua so si 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 l'avevo capito che cosa molesta eh ma è normale siamo usciamo dalle fottute ancora vede qua vede qua giù vede qua giù che gli buttiamo tre fattine dentro qua vede qua vado a portare l'inscuro eh scendi giù ah caschini sotto ah infatti sono caduto sotto io ho capito come hai fatto ho deciso di salgo perché gli imperiali perché qua ci sono tre imperiali se gli buttiamo tre fattine e li ammazziamo sì sì io ce li ho lanciati alcune guarda guarda vieni qua segui me ah scusa qua sotto ok non l'avevo visto no no andatela no andatela state dove sto io sopra ma non c'è ambiglia aspetta aspetta che qua ok no che palle ma guarda se si potevano mettere in mano ma che cacchio è sta roba qua squadra delta che si è messi in modalità ah li sto danneggiando tantissimo no granata dobbiamo ammazzare quello che fa che fa la cosa che fa la torretta ci sta sì esatto che fa la vedetta eh però vedi come però che culo hanno fatto allora però non c'è più quell'altra mappa l'hanno tolta quell'altra dove eri ma guarda se ne è uno qua a piedi ma una domanda non ci sta più la mappa quella lì ah del cacchio devo andare ah devo salire qua a sud verso sud mi sa che mi sono glicciato su una pietra cazzo dove sei? glicciato su una pietra tra una balaustra e una pietra ah attenzione che mi è successo anche a me devi morire di entrare eh mi sa che è l'unica ma che merda ahi ma che palle con il fatto alla sentinella mobile lì maledetta ii ma c'è un cretino da solo si? si ah l'abbè mi sa che è già morto si lo sto per ammazzare io e dai e dai e poi il fucile e non ho capito perché sono deficiente doveva andare da solo lì che c'è uova aiuta beccate le mie fatine dai ammazzo è da solo non posso però vivere ancora la gente ormai c'è la gente che gli fa copertura abbastare visto accorti che è un deficiente no raga dobbiamo metterci in gruppo e buttare le fatine a a vagonate cosa è fatto dai dimmi che lo danneggia ct5258 l'ho ucciso l'ho ucciso no no l'ho ucciso io non distrusa te voglio bene ma l'ho ucciso questo cazzo cazzo ok la visita è un problema deve uccidere quello lì che c'è sulla sull'ingresso lì dove entriamo noi è l'unico problematico aspetta cerco di fregarlo perché mi trovo in una po' se è scappato se è stagato alla rox cerchiamo di fare una cosa di gruppo perché semmai da soli non ce la facciamo no si è spostato è quello che tu dicevi dall'inizio dobbiamo metterci tutti insieme con le fatine e lanciargli addosso infatti aspetta un attimo solo che non so dove sono spawnato ok guarda ne vedo uno io sto qua guarda rex rex guardami mi vedi guarda io sto già in posizione raga stiamo arrivando ok ti vedo sulla mappa adesso mi sparano perché li sto distraendo ok no stiamo arrivando vediamo guarda che tutta oh ma veramente livello livello stanno arrivando stanno scendendo stanno scappando guarda eccoli là eccoli là so tutti un mondo che moglie la strada infatti ad2 andiamoli da dietro poi direi quando passano ok fuori uno ok fuori due ok buono ah ne è uno è calcagnata vediamo se ci fanno spawnare direttamente ho uno dritto di coda lo sto inseguendo non ce la faccio le gambe piccole le gambe corte sono un nano comunque vedi le mappe più belle due balle tu da mano maledetto lui hai giocato molto bene non c'è niente a fare ma qui un ruolo rotto che hanno già il già non la navetta ma dai ma che balle ma che due balle ma perché organizzati vabbè mezza squadra che so si solo noi non abbiamo questo onore ma guarda che culo rotto ma veramente ci sono messi in modalità ma poi hanno trovato tutti i fucili subito che cacchi del venito erano russi organizzazione suonare pk condivide la mia opinione chi pk che ha scritto ma te me ne fanno cura ma almeno due li abbiamo mangiati Alex due ce li siamo mangiati si infatti è stata bella la roba che mi dava più fastidio eravamo in due in seguire questo tizio qua che correva come una lepre gli buttiamo le fattine lui si gira saltando e spara prima lui lo ammazza mentre io cerco di di acciuffarlo mentre è imprendato a sparare all'altro lui continua a saltellare e a indietreggiare quindi fa tempo uccidere sia l'altro che me cioè è allucinante questo tizio qui bene questa è la tutta partita anche per me no ma che palle vabbè beh adesso lo avete una volta tutte e due una volta io prossimo giro teoricamente no io sono uscito io penso che dovete che affinavamo ah no ma come no dobbiamo farne una tutti e tre nella mappa buona eh esatto ah non l'avevo capito non l'avevo capito allora è uscito nato con le possibilità quindi ora potrebbe ritoccare a lui ah non l'avevo capito perché qua ti c'ha nulla e io sono fuori vabbè rientra dentro dando giù spazio come faccio aspetta abbandona aspetta partecipa abbandona gruppo e clicca partecipa ok però ricorda che verrà invitato dopo con precauzioni ok 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 c'è la bomba non l'avevo capito no a me quello che ha sconvolto prima Rex è stata l'organizzazione con cui hanno preso i fucili si erano appena spawnati hanno subito trovato i fucili e si sono subito messi in posto in cui devono mettersi si militari proprio era un po' allucinante secondo me erano in squadra l'unica spiegazione probabile anche perchè guarda anche perchè vedi che non ci sono più quelli là non si via ho fatto caso si il gruppo la di prima è notato